il mio ovviamente non vuole essere un intervento che entra nel merito e che dà un apporto però volevo in questo momento farmi interprete dei vostri sentimenti per ringraziare padre bartolomeo sorge che è venuto qui a ragusa ci siamo incontrati quest'oggi proprio nella casa del clero dove lui è ospite e abbiamo ricordato i vecchi tempi li ha ricordati anche all'inizio di questo nostro incontro e vorrei semplicemente richiamare il titolo che è stato dato cattolice politica al tempo di papa francesco mi pare che padre bartolomeo prima di iniziare poi la sua relazione diciamo più sostanziosa con particolare riferimento all'evangelii gaudium a quel capitolo che il papa dedica alla politica guarda caso all'interno di un enciclo di una di un documento che parla del vangelo a me è piaciuto molto che lui ha voluto richiamare quelle parole del cardinale papalardo 1985 io ero ancora un giovane seminarista a quell'epoca e però le parole del cardinale papalardo sono rimaste valide in quell'occasione e nel tempo successivo tant'è vero che tutto ciò che si è riuscito a realizzare a palermo anche la stessa primavera con tutti gli entusiasmi con la grande progettualità e soprattutto con lo slancio che non era solo di pochi ma di molti era motivato dalla vicinanza al vangelo anche lo stesso leo luco orlando proveniva dal mondo cattolico se così lo vogliamo definire ma tutti gli altri erano coinvolti in questo progetto di rinnovamento e di nuovo entusiasmo e di nuova speranza a partire da quella che è la realtà del vangelo e non è un caso che poi anni dopo nel 1993 un presbitero di palermo don pino puglisi viene ucciso a causa del vangelo come dice esattamente la motivazione del suo martirio ucciso ucciso in odio alla fede ucciso in odio alla fede perché don pino puglisi altro non realizzava nella sua azione pastorale nel servizio alla parrocchia se non la logica del vangelo quella logica può essere sconvolgente quella logica può essere una logica che si contrappone a ogni forma di politica di azione sociale di vita in un quartiere che non ha la stessa logica del vangelo e dunque rischi ad avere una logica perversa ecco io ho avuto la fortuna di essere vicino al cardinale pappalardo ho avuto la fortuna anche di essere vicino a padre bartolomeo sorge in quei tempi belli e allo stesso tempo terribili per le tante morte per le tante occasioni in cui ci siamo ritrovati attorno all'altare per fare funerali sono veramente lieto anche di essere stato un una persona molto vicina a don pino puglisi perché è stato il mio parroco non ho alcun merito per questo è capitato lui era a godrano io sono nato a godrano è cresciuto a godrano un piccolo paese dove lui è stato per otto anni parroco e poi ho proseguito il mio cammino vocazionale seguito da lui insieme con tanti altri giovani e sono veramente lieto di potere attestare quanto sia veramente importante ripartire dal vangelo per innervare il vangelo nella nostra società nel nostro mondo senza crociate ma solo con la forza del vangelo stesso grazie per averci dato questa bella opportunità bene allora concludiamo così dandoci appuntamento a proseguire quello che stasera abbiamo ascoltato proseguirlo come approfondimento come riflessione per trasformarlo poi in azione concreta in vita con greda grazie a tutti ancora